A conclusione due appuntamenti dedicati alla famiglia, quando si terranno e di che cosa si tratta? Allora il titolo di queste due serate è La Famiglia Accogliente e si svolgeranno esattamente giovedì 20 febbraio con la proiezione del film La Pivellina presso il Cinema Garden e il mercoledì successivo alle ore 20.45 presso l'aula magna dell'oratorio e la tavola rotonda su questa tematica. Sono due serate volute in modo particolare dalla parrocchia e organizzate insieme alla Fondazione Cariplo che ha dato dei contributi per realizzare queste iniziative. Riteniamo che siano due momenti importanti all'interno della nostra comunità perché vengono in modo particolare sensibilizzate le famiglie per quanto riguarda l'aspetto del loro aprirsi verso gli altri. Durante queste due serate con la proiezione del film e anche con la tavola rotonda si verranno presentate delle esperienze, delle esperienze di affido temporaneo, delle esperienze di affido più prolungato e delle esperienze di adozione. Perciò noi invitiamo un po' tutte le famiglie che volessero per caso partecipare a queste iniziative di venire. Stefano Cugini è responsabile del punto informativo di Clusone dell'Associazione Genitori Si Diventa. Parliamo in particolare della serata del 26. Chi ci sarà? Allora la serata del 26 l'abbiamo strutturata in questo modo. Ci sembrava importante mettere a fuoco tutte e tre le esperienze di accoglienza. Per cui da una parte l'esperienza dell'accoglienza di bambini bielorussi per cui ci sarà l'associazione Aiutiamole a Vivere che darà un po' una cornice di come si fa a dare la disponibilità, di cosa vuol dire, eccetera, eccetera. E ci sarà una testimonianza di una famiglia che ha accolto temporaneamente questi bambini. Interverrà anche l'ambito di Clusone che è il referente per quel che riguarda invece l'affido temporaneo con un istituto particolare che prevede che per le situazioni in cui c'è bisogno di una famiglia che affianchi il minore per cui non viene tolto la famiglia d'origine ma viene accompagnato in determinati periodi della sua vita ci sarà per cui l'ambito di Clusone che darà un po' la cornice di quello che è invece l'affido temporaneo. Anche qui ci sarà poi l'esperienza di una famiglia che racconterà un po' la sua esperienza cosa vuol dire avere un bambino, un minore in casa in affido, le fatiche e anche le cose positive. Ci sarà poi l'ASL, l'equipo adozioni dell'ASL che invece parlerebbe in modo specifico di adozione adozione nazionale e adozione internazionale. Spesso quando si parla di adozione vengono alla mente esperienze negative nel senso che se ne parla quando succede un po' la difficoltà del Congo quando i bambini scappano eccetera eccetera ma in realtà l'adozione è un'esperienza molto importante, è un'esperienza molto forte e bella per cui crediamo che sia importante raccontare alle famiglie anche di quei tanti casi che non vengono raccontati sui giornali ma di quelle famiglie che appunto danno la disponibilità e realizzano al loro interno l'accoglienza prolungata perché è l'adozione a carattere definitivo di minori che altrimenti sarebbero in stato di abbandono e non potrebbero avere delle soluzioni adeguate. Anche in questo caso oltre alla cornice istituzionale dell'ASL poi ci sarà una famiglia che racconterà un pochettino quella che è la propria esperienza di adozione internazionale.